Enrico Zanoni, Cremonese DOC, è alla presidenza del Trento DOC, ma anche direttore generale della Cavita Trento. Il dirigente fa volare le bollicine. Il Trento DOC negli ultimi anni ha avuto un tasso di crescita molto importante, con un breve assestamento dovuto alla pandemia. È una denominazione che sta manifestando e mostrando importanti tassi di crescita. Il dato del 2021 non è ancora disponibile, comunque sicuramente è una delle denominazioni in maggiore salute, con un tasso di crescita a doppia cifra degli ultimi 5 anni. Come Cremonese DOC devo dire che va detto che oltre l'85% dei consumi del fatturato è fatto in Italia, quindi a differenza di altre tipologie vede nel consumo domestico la gran parte del fatturato dei consumi. Comunque questo non vuol dire che non ci sia un 15% di esportato. I paesi di maggior flusso per l'export sono il Giappone, gli Stati Uniti, il Nord Europa, quindi Svezia, e la Russia è un mercato comunque di un discreto peso che sicuramente vedrà nei prossimi anni una flessione. Però questo non va a impattare quelle che sono le previsioni di crescita anche nei prossimi anni, perché comunque già il mercato italiano, come dicevo prima, è in forte espansione e su altri mercati, ad esempio negli Stati Uniti, da alcuni anni stiamo investendo con un piano promozionale, possono dare ulteriori tassi di crescita che vanno a compensare il prevedibile calo nei paesi come la Russia, dove vediamo che le condizioni attuali hanno non solo un blocco del breve dell'export, ma che avranno sicuramente ripercussioni sui consumi nel futuro.